Lode a te, Signore Gesù, presente qui davanti a noi. Signore, questa sera voglio riascoltare un Tuo messaggio che ci hai trasmesso attraverso un santo sacerdote ispirato. Signore, questo messaggio dice così, perché ti confondi e ti agiti davanti ai problemi della vita. Lascia che guidi io tutte le Tue cose e tutto andrà meglio. Quando ti affidi a me, tutto si risolverà con tranquillità, secondo i miei disegni. Non disperare, non dirigermi una preghiera agitata, come se desiderassi pretendere il compimento dei Tuoi desideri. Chiudi gli occhi dell'anima e dimmi con calma, Gesù, io confido in Te. Evita le preoccupazioni angosciose e i pensieri su ciò che potrà succedere. Non rovinare i miei piani, volendomi imporre le Tue idee. Lasciami essere Dio e attuare con libertà. Affidati con fiducia a me, riposa in me e lascia nelle mie mani il Tuo futuro. Dimmi con frequenza, Gesù, io confido in Te. Ciò che più fa danno a Te è il Tuo ragionamento e le Tue idee, il voler risolvere le cose a Tuo modo, sebbene Tu mi dica, Gesù, confido in Te. Non essere come il paziente che chiede al medico che lo curi, però gli suggerisce il modo come farlo. Lasciati sollevare nelle mie braccia divine, non avere paura, io Ti amo. Se credi che le cose peggiorano o si complichino, nonostante le Tue preghiere, continua ad avere fiducia. Chiudi gli occhi dell'anima e confida, continua dicendomi a tutte le ore, Gesù, io confido in Te. Ho bisogno delle Tue mani libere per poter operare. Non legarmi con le Tue preoccupazioni inutili. Satana vuole questo, agitarti, angosciarti e toglierti la pace. Confida in me, riposa in me, affidati a me. Io faccio miracoli in proporzione a come Ti affidi e hai fiducia in me. Così non devi preoccuparti, poni in me tutte le Tue angosce e dormi tranquillo. Dimmi sempre, Gesù, io confido.